Martedì 10 ottobre ci troviamo a Mestre per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore Design e Contract del Domani. Questo è il titolo del workshop. 250 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tantissime le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato. Tanti progetti in cui siete impegnati, siete presenti in tantissimi alberghi in tutto il mondo? Sì, sempre di più mi prometto di dire. Sta diventando una quota sempre più importante del nostro giro d'affari perché le caratteristiche del prodotto riguardo alla tecnica e alla durata sono più facilmente apprezzabili dal settore alberghiero. Noi siamo produttori e non propositori di soluzioni, poi per contro anche venendo un convegno come questo trovo per esempio dei trattamenti superficiali interessanti che potrebbero servirmi per dare delle opportunità di scelta ulteriori ai miei clienti architetti.